Questa vuole essere una dimostrazione buffa di cosa avviene quando noi ci laviamo le mani per avere i virus il più distanti possibili. Allora io ho una scodella piena d'acqua, vado a infettare l'acqua con della polvere di pepe che simula i miei batteri e virus. Allora se io vado a toccare una superficie come tutte le superfici del mondo che ha la sua bella colonia di virus e batteri, me li prendo. Però se io mi lavo le mani e tengo le mani ben pulite, sapone, a questo punto quando vado a toccare superfici i virus hanno paura e scappano.